Buongiorno e benvenuti, oggi è martedì 30 agosto 2022, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno con i giornali che abbiamo già pronti, freschi dall'edicola, non è così, li abbiamo scaricati, anzi nemmeno scaricati perché adesso la novità di quest'oggi è che il Corriere Adriatico non si può più scaricare il PDF, quindi ci siamo dovuti inventare all'ultimo minuto un escamotage per cercare di farvi vedere attraverso il touchscreen le pagine che abbiamo selezionato per voi, invece è ancora fattibile con il resto del calino, ma di questo, insomma, non ne parleremo dopo, nel senso che, ecco, questa è la situazione in sostanza. Allora, 7.01 per chi ci segue in diretta, andiamo a vedere adesso subito il santo del giorno, il santo di oggi, anzi sono due, sono Santi Felice e Adauto, il sole è sorto alle 6.28 e tramonterà, vedete, alle 19.49 minuti. Adesso andiamo a vedere invece il tempo, per la giornata di oggi, martedì 30 agosto, avremo un cielo sereno, poco nuvoloso per il transito di velature, non sono, vedete, presenti precipitazioni da nessuna parte, le temperature sono in lieve aumento nei valori massimi, domani invece il tempo cambia, l'avevamo già annunciato ieri, sempre con il sito della protezione civile delle Marche, avremo dei rovescio temporali sparsi, in esaurimento dal tardo pomeriggio e la grafica ci fa capire, insomma, come evolverà un po' questo tempo, a cominciare appunto dal tardo pomeriggio, mentre la giornata di settembre, guardate il colore delle nuvole, è completamente diversa da quella del 31, il mese di settembre si apre con una spiccata perturbazione che porterà rovescio temporali in transito, dalla montagna, quindi dagli appennini fino alla costa, con esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio, quindi diamo per scontato che qui comincia nel tardo pomeriggio, continuerà durante la notte, un po' durante la mattinata e poi dopo, via via, insomma, questa perturbazione scivolerà. Però il fine settimana sarà ancora caratterizzato da possibili condizioni di instabilità, con probabile miglioramento per l'inizio della settimana successiva. Allora, adesso andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, edizione di Pesaro. La fotonotizia è per gli abbonamenti alla VL, la squadra di pallacanestro che milita nella massima serie pesarese. Allora, subito corsa per gli abbonamenti, grande fiducia tra i tifosi, è la foto di Mauro e Giacomo Blasi, insieme per assicurarsi l'abbonamento, dunque di padre in figlio. Poi, la pagina, il titolo d'apertura è per le prossime elezioni del 25, la fabbrica del non voto. Attenzione, viaggio tra gli operai in vista del 25 settembre, prevale la disillusione. Questa politica non ci rappresenta, sono due pagine che il Carlino oggi dedica. Poi c'è il resoconto dell'incontro che c'è stato ieri a Gimarra. Bufera sulla variante, oltre 200 persone all'Assemblea. Fischi e urla contro il progetto. Poi sul caro energia, come lo paghiamo il riscaldamento delle scuole? Summit con i presidi. La provincia comincia a interrogarsi sulle scelte da mettere in campo, soprattutto in vista dell'inverno. Poi l'auto dei vigili fa la ronda al Miralfiore. Qui siamo a Pesaro contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sullo schianto e la tragedia che si è consumata a Fano l'altro giorno. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale. E sotto poi l'estate vista dai tassisti. Tanti turisti stranieri. Queste sono le presenze in città. In città ovviamente in questione è Pesaro. Poi il Corriere Adriatico invece. Allora sul bus viaggia la crisi energetica. Trasporto pubblico e privato strozzato dai costi. Benedetti di Adria Bus dice così corsi di guida slow per gli autisti. I presidi delle marche sulla DAD si interrogano se sia necessario o meno. La DAD è la didattica a distanza. Cioè lasciare a casa gli studenti. Lasciarli a casa perché così le scuole rimangono chiuse. I termosifoni rimangono spenti e dunque si risparmierebbe sul gas. No, è meglio allungare le vacanze di Natale. Questa è il titolo d'apertura. Mentre la fotonotizia è per la Gimarra. Il quartiere Gimarra che si è riunito per la variante contestata. Polemiche e critiche all'Assemblea dei residenti. E questa è la fotografia. Io non posso allargare più di tanto perché comunque vedete. Beh sì, ancora si legge tante quanto. Ma insomma, non so voi, ma qua vedo tutto un po' sfocato. Poi il PD diviso. Niente ruggini per le liste. Qui si parla ovviamente delle prossime politiche. Poi alcune notizie in breve per quanto riguarda la prima pagina. Ciccolini del lato, sì città, siamo usciti dall'emergenza. A Urbino, infopoint turistico, punto di raccordo con gli operatori. A Fano, omicidio stradale, autopsia per Bicio. Giovedì il funerale. E poi emergenza, disturbi elementari. Manca il personale, niente servizio. Sportello dell'area vasta a Galantara, chiuso durante l'estate. Allora, ripartiamo da qua, dalle pagine interne, quella di Fano, pagina 16 del Corriere. Omicidio stradale per Bicio, la Procura ordina l'autopsia. L'esame stamattina, giovedì il funerale a Lucrezia, a Verbale il conducente tedesco. Stiamo parlando dell'incidente che si è verificato l'altro giorno, intorno alle 13.15, l'altezza del nuovo distributore. Siamo sulla Flaminia, vicino Rosciano, fra uno scooter condotto appunto da questo giovane che si chiama Agostini, Roberto Agostini, di 43 anni, deceduto nel primo pomeriggio di domenica appunto a causa di questo incidente, mentre sulla macchina, il SUV che vedete nella fotografia, c'era a bordo una famiglia di tedeschi che stava cercando il bed and breakfast dove passare qualche giorno qui nelle nostre zone. Era composto all'interno del SUV, c'era marito e moglie con il figlio letto di 10 anni. E poi naturalmente lo schianto e quindi il dramma. Anche il resto del carino ne parla, ma lo vedremo tra poco. Intanto la pagina di Fano, variante, giunta, travolta dalle critiche, aggimarra un'infocata arena politica. L'ex direttore De Leo interviene con il piglio del candidato sindaco, attaccano i residenti, forse i due più conosciuti, i più noti, Gabellini, ex patron del Fano e Luciano Benini. Allora, qui c'è la cronaca di Massimo Fughetti che ha seguito questa assemblea, l'abbiamo seguita anche noi, e qui vedete il microfono di Fano TV presente. E quindi stasera vi daremo conto nel telegiornale, quindi vi faremo vedere anche le immagini. Qui invece, come vedete, la foto dell'assemblea con alcuni partecipanti, dove spicca in primo piano, appunto come dicevo, tra i più riconoscibili, anche Luciano Benini, con un trascorso anche in politica. Il titolo del resto del Carlino è Barricate, antivariante, volano, fischi e grida. Qui l'ha seguito per il Carlino Anna Marchetti. Dunque un incontro affollato, 200 persone circa, molte contestazioni, grida, fischi. Insomma, diciamo che sia fanesi che il sindaco probabilmente hanno potuto parlare poco, anche i tecnici hanno potuto parlare poco, perché appunto spesso venivano interrotti, così scrivono, insomma, dai residenti. Ecco, il primo ad intervenire, scrive il giornale, è stato l'ex presidente del Fano Calcio, l'imprenditore Claudio Gabellini, che ha criticato le modalità con cui l'amministrazione ha portato avanti questo progetto. Gabellini, in sostanza, che cosa ha detto? Ha detto, senza confronto con i cittadini, convocati solo dopo gli invii degli espropri, è stato un comportamento imbarazzante. Poi ha parlato anche l'ex sindaco di Fano, Enzo Cicetti, nel 78 la variante prevedeva su tutte le colline di Fano, quindi San Biagio, Carmine e Montegiove, zone edificabili in mezzo al verde. Io da sindaco mi sono opposto e vi assicuro che ci voleva coraggio. Poi l'ex direttore generale, invece del Comune, Giuseppe De Leo, indicato, tra l'altro, come possibile candidato sindaco per il centrodestra nel prossimo 2024, De Leo ha detto, comprendo la difficoltà di gestire una situazione così complessa, ma francamente non ho mai visto tanta arroganza e prepotenza. Poi ce ne sono altri, insomma, di pareri, come Luciano Benini, che voleva mostrare un video che lui ha girato di qualche minuto, ma non gli è stato concesso. Uno, credo soltanto, tra i partecipanti a questa assemblea, si è detto invece favorevole. Il signor Tinti, che però a causa delle contestazioni ha portato a termine con difficoltà il suo intervento. Poi, sempre su questa pagina, la pagina di Favre del Carlino, la cronaca con la morte, appunto, di Fabrizio Agostini, nello schianto ha aperto un fascicolo omicidio stradale. Questa è l'ipotesi, questa è l'ipotesi di reato, per cui la Procura ha aperto questo fascicolo contro il tedesco di 44 anni, che guidava il SUV BMW coinvolto nell'incidente con questo scuterone. Mentre il problema adesso, invece, a pagina 6, una delle pagine che abbiamo selezionato per la rassegna stampa di questa mattina, è il... qui aumenta tutto, lo sapete, aumenterà l'energia elettrica, è già aumentata, metano non ne parliamo, benzina, aumenteranno anche i biglietti dell'autobus, e a pagina 6 se ne parla sul Corriere Adriatico di oggi. Trasporto pubblico sotto shock, gli aumenti sono generalizzati, il direttore di Adriabus guarda la possibilità di risparmio, nuovo parco mezzi e lezioni di guida. Ora, chiaramente questo è un riflesso del costo del gasolio, il gasolio è aumentato, quindi picchi di aumenti di 35-40% per quanto riguarda il costo del gasolio, poi ci sono stati altri rincari di servizio, intorno al 7-8% rispetto al periodo del 2021, insomma la società Adriabus chiede a questo punto alla Regione Marche e ai comuni di prevedere misure ad hoc a copertura di questi costi cosiddetti extra, perché altrimenti poi tutto si ripercuoterà inevitabilmente sul biglietto e quindi sull'utente finale. Poi c'è la questione delle scuole, scuole che dovranno far fronte alla questione del caro Bollette e quindi stanno studiando come risparmiare per non trovarsi in bancarotta. Allora, la didattica a distanza contro il caro Bollette, no più vacanze a Natale. Qui siamo sul Corriere Adriatico. Il resoconto è su un incontro che c'è stato tra i presidi delle scuole marchigiane che si dividono sull'ipotesi di introdurre la didattica a distanza il sabato tra le proposte alternative avanzate e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Ora, le proposte dei presidi contro il caro Bollette appunto sono queste, le vediamo qui nel grafico. nella sintesi del Corriere. Allora, abbiamo detto la didattica a distanza il sabato, quindi tutti a casa il sabato, a lezione attraverso il computer. Anticipare di una settimana all'inizio dell'anno scolastico ed aggiungere una settimana di vacanza a Natale. Dotare le scuole di pannelli fotovoltaici, tetto massimo della temperatura in tutti gli istituti. Insomma, questo è un po' quello di cui si sta parlando in questo momento. Poi ovviamente ci si aggiunge anche la criticità del trasporto, cioè gli studenti che devono essere trasportati da casa a scuola e viceversa. Anche lì abbiamo appena visto il costo del biglietto che aumenterà sicuramente. e poi l'incremento del metano, l'incremento del gasolio, insomma, aumenterà, 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 mentre gli stipendi restano gli stessi e va da sé che la situazione sarà veramente critica. Elezioni, viaggio nella fabbrica, questa politica non ci rappresenta, invece l'altra pagina che ho selezionato per voi dal resto del Carlino, pagina 3, qui, questa è una delle due pagine che il Carlino oggi pubblica e fa questo viaggio appunto nelle fabbriche. Questa politica non ci rappresenta, quindi molte persone scontente, disilluse dalla politica, dicono che in sostanza non andranno a votare. Ma questo, secondo me, è un errore grossissimo perché invece bisogna andare a votare, magari votare per qualche movimento nuovo, facce nuove, politici non di professione, soprattutto i cosiddetti movimenti antisistema, questo è importante, movimenti antisistema. Tra gli operai, parere mio ovviamente personale, tra gli operai prevale la disillusione verso i partiti, distanza dal PD, ma non c'è la virata verso Fratelli d'Italia. Questo per quanto riguarda le aziende che i giornalisti, Eusebi, il giornalista del Carlino, ha ascoltato e ha intervistato. E poi c'è un'intervista ad Enzo Camillini, invece, che dice tanto perché fa capire un po' qual è la situazione che stiamo vivendo in questo momento. E quando andrete a votare, ricordatevi anche di questa, per esempio, intervista nella quale si dice che c'è addirittura chi si licenzia per avere il reddito di cittadinanza. Allora, il buon cittadino deve fare due conti, deve dire chi è che ha introdotto il reddito di cittadinanza? Quel partito, bene, allora, quel partito non avrà più il mio voto. Chi è che ha mandato a casa tanta gente perché non si è vaccinata obbligatoriamente? Quei partiti, bene, allora, quei partiti non avranno il mio voto. Chi è che ha permesso che l'energia arrivasse a costare così tanto le bollette a sproposito? Quei partiti, fatele queste ricerche, fatevi queste domande, andate a fondo nelle cose, cercate di capire qual è la causa e guardate in faccia alle persone che hanno causato tutto quello che poi si ripercuote sulla nostra pelle. È troppo facile dire io non vado a votare perché sono tutti delinquenti, sono tutti farabutti, sono tutti... No, guardate in faccia e poi dici ok, questi non avranno più il mio voto. Andiamo e proviamo. Poi direte sono tutti uguali, eh lo so, però saranno anche tutti uguali, ma intanto prima o poi cominciamo ad andare a casa la gente che ha fatto i danni. Intanto cominciamo con quelli. Poi questo è il mio pensiero e spero che sia in qualche modo possa darvi un po' di stimoli. Allora dicevo, guardiamo cosa dice Enzo Camillini, che è il titolare di Tecnoplast, che è un'azienda in continua espansione con 50 milioni di euro di fatturato e che tocca ogni giorno con mano quanto sia cambiato il mondo del lavoro rispetto al passato. E lui dice, lo constatiamo tutti di continuo, abbiamo tanti giovani e ogni tanto qualche imprevisto. Qualche esempio, chiede Eusebi, di questi imprevisti. Allora, ieri mattina, racconta questo imprenditore, ieri mattina due nuovi assunti, quindi appena assunti, non si sono presentati perché non si sono svegliati. Sono rimasti nel letto. Venerdì scorso avevano chiesto al caporeparto di chiamarli se non si fossero visti. Capite a che livelli. Paga poco attraente? Non credo. A parte il fatto che anche se prendessero 100 euro, nel momento in cui tu prendi l'impegno, non è che se uno prende 2.000 euro si deve svegliare, se uno ne prende 100 può permettersi di rimanere al letto. Cioè, nel momento in cui uno prende l'impegno, lo prende e basta, non c'entra niente la paga. Non credo, dice, la paga non è poco attraente, perché un operaio guadagna 1.400 euro al mese circa. Ma non è una questione di denaro. C'è chi ci ha chiesto un ruolo più remunerato perché aveva spese familiari da sostenere. Gli abbiamo dato una paga di 1.600 euro ed assegni integrativi per la famiglia. Accontentato? Domanda. No. Poco dopo ci chiama e ci dice che preferisce rinunciare perché il reddito di cittadinanza e qualche lavoretto guadagna di più. Il reddito di cittadinanza è la rovina delle aziende. Allora, non lo dico io, lo dice un imprenditore che è arrivato a dare 1.600 euro ad un operaio con qualche benefit in più e che si è sentito dire, appunto, no, preferisco prendermi il reddito di cittadinanza. Questa è la fotografia. Inutile che ci nascondiamo perché, come lo dice lui, lo dicono altri. Stiamo cercando 25 operai ed è un'impresa, c'è che è stato assunto, ha firmato e non si è presentato. Altri invece si sono licenziati e poi sono tornati. Eusebi dice, chi è tornato? Un operaio si è dimesso, ha preferito fare l'aiuto cuoco in spiaggia, ma non l'hanno pagato e ha chiesto di essere riassunto. E voi? Ripreso, perché abbiamo un cuore, ma abbiamo anche bisogno di questi operai. Allora, siccome ho detto che ci sono 25 posti disponibili appena letto, vi ricordo chi è l'azienda, così magari se, ecco, potete sentire, titolare Tecnoplast, azienda, appunto, Tecnoplast, che lui sia un'azienda comunque del Pesarese, in continua espansione. Però, ecco, ricordatevi, ricordatevi, ripeto, chi è che ha introdotto tutta questa roba qua? Niente voto. Avanti con, intanto, gli altri giornali. A pagina 14, alberghi pieni fino al 20 settembre, questa invece è la pagina di Fano. Etienne Lucarelli, che è l'assessore al turismo e che parla della programmazione degli eventi, che è stata fondamentale. In sostanza, l'assessore al turismo traccia un bilancio, un primo bilancio di quest'estate, è un mix tra promozione e accoglienza che si è, insomma, rivelato un buon mix e che ha portato ad avere una stagione con dei risultati addirittura a livelli di pre-Covid. Quindi, diciamo, con un bilancio tutto sommato più che positivo. Andiamo avanti con l'altra pagina. Anche Marotta, siamo sempre sul Carlino, anche Marotta è contenta, in sostanza, stila un bilancio positivo sulle presenze. Parla di ripresa, siamo di nuovo sui numeri del 2019, vedete, anche qui, prima del Covid. Insomma, due anni difficili e poi siamo tornati a dei buoni livelli. Poi ancora dai quotidiani. Andiamo ad Urbino. Festa degli Aquiloni, un volano per Urbino. Infopoint a pieno ritmo per promuovere la manifestazione e la città in tutta la regione e non solo. Sui social ci seguono anche in America. Mentre la pagina della Valcesano, qui c'è una polemica, una polemica tra il sindaco di Terra Roveresche, Antonio Sebastianelli, e il presidente della provincia, Paolini. Perché ieri, chi ha seguito la rassegna stampa, ha letto i giornali, avrà sicuramente notato, si ricorderà, dell'intenzione del sindaco di Terra Roveresche di andare a manifestare tutti insieme contro il dissesto delle strade. Ecco, quindi questo invito non è piaciuto un granché, questa adunata non è piaciuta un granché a Paolini, che parla di adunate irriguardose. La provincia sulla protesta annunciata del sindaco è scontro sulle strade da asfaltare. La pagina di Senigallia, siamo in chiusura, ruba di notte dalla cassa dello chalet, fugge in bicicletta, ha catturato dei poliziotti, il diciottenne a più riprese ha sottratto 600 euro in uno stabilimento, dormiva ad abusivo in un condominio. Il questore sta valutando un foglio di via obbligatorio dalla città di Senigallia. Mentre è morta Maratassi, Tassi, il commercio in lutto, è morta, aveva 54 anni Maratassi, è stata la titolare del negozio di ammigliamento di camice nel corso 2 giugno, dove per tanti anni ha accolto con il suo sorriso tanta clientela. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Facondino a Sassoferrato. Addio al cittadino Onorario Branzi, l'altra notizia è sempre dalla Senigallia, il giornalista aveva contribuito al gruppo fotografico del Misa. Andiamo invece adesso sulla pagina finale della nostra rassegna, che è quella dedicata allo sport. VL, la storia infinita, l'assalto agli abbonamenti. Una tradizione che si ripete, aperta ieri la campagna, con tanti appassionati in fila per cercare il posto migliore. Per noi non è domenica senza il basket. Questa è la fila di ieri mattina per appunto prendersi il posto migliore, fare l'abbonamento, ma soprattutto sostenere la propria squadra di pallacanestro, che, insomma, a Pesero, sapete, è lo sport di punta. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia che il telegiornale di Fanotti vuole. Riederci.